Ricordi come la volta scorsa abbiamo realizzato una sorta di riquadro facendo questo div e dandogli poi un colore di sfondo? Bene, ogni elemento della tua home page è considerato un riquadro dal browser, indipendentemente dal fatto che lo sembri o meno. Questo titolo è un riquadro, questo paragrafo è un riquadro, anche lo span che abbiamo fatto è un riquadro. Alcuni dei riquadri sono grandi, altri piccoli, altri sono in line come questo span, altri sono blocked come il div, ma sono considerati tutti riquadri. Perché questo ci interessa? Perché c'è qualcosa denominato the box model ben visibile nel diagramma che ho appena incollato. Il riquadro di ogni elemento ha quattro parti, il contenuto, il riempimento, il bordo e il margine. Puoi usare i CSS per modificare il riempimento, il bordo e il margine. Cominciamo dai margini. Questo è il margine trasparente, che separa il riquadro dagli altri elementi. Per specificare un margine su ogni lato del riquadro Official Info è possibile scrivere margin 15px. Notate il cambiamento che c'è stato? Come dovremmo fare per avere un margine diverso per ogni lato? E se vogliamo più margini in alto, in basso rispetto a sinistra o destra? È possibile inserire questi valori in senso orario, partendo dall'alto. Quindi sopra 15px, a destra 0px, in basso 10px, a sinistra 6px. Oppure possiamo usare proprietà specifiche per ogni lato. Se sono pochi lati, naturalmente, di cui dobbiamo specificare il valore. Ecco, vogliamo ottenere un po' di spazio intorno all'immagine del gatto, sulla destra e anche in basso. Mentre per gli altri lati ci accontentiamo del margine di default. Esiste anche un valore particolare per i margini che ci aiuterà a realizzare qualcosa di bello con le nostre pagine. Per mostrartelo aggiungerò un div intorno all'intera pagina e gli darò idcontainer. Ecco, mettiamo qui dietro così che contenga tutto. Aggiungiamo poi una regola per questo div per dargli la larghezza di 400px e centrarlo sulla pagina. Potrei specificare di lasciare un margine di 100px, perché così a me sembra centrato. Però sul tuo browser potrebbe non essere così. Quindi quello che ci serve allora è poter dire Inserisci qualunque margine risulti necessario, in modo che abbia uguale margine su entrambi i lati. Questo è esattamente ciò che fa Margin Auto. Ed è realmente molto comodo per centrare i div in una pagina. Ora che abbiamo centrato questo div, potremmo aggiungere un bordo intorno, usando le proprietà dei bordi dei CSS. Allora, adesso aggiungiamo un bordo rosso a questo div. Digitiamo border e poi specifichiamo tre aspetti del bordo. Spessore, stile e colore. Per un bordo sottile scriviamo 1px. Per una linea spessa, senza decorazioni, digiteremo semplicemente solid. E per rendere la rossa, beh, basterà un salto nel raccoglitore di colori RGB, dove potremo scegliere un simpatico rosso fuoco. Ok, proprio come con i margini, possiamo specificare il bordo per solo un lato. Se vogliamo un bordo veramente sottile, viola sopra, noi aggiungeremo un'altra proprietà. Border top 10 solid purple. Forte! Ora aggiungiamo una cornice all'immagine e giochiamo con lo stile del bordo. Tornando al nostro gatto carino, quindi vediamo border sixpix. Proviamo un rosso scanalato, no, no, non mi piacciono le scanalature. Proviamo uno doppio, un ondulato, ora sembra una cornice. Cosa ne dite di un bordo attorno al nostro official info? Vediamo, bordo. Non facciamolo troppo grande, 2px. Allora proviamo punteggiato e scegliamo un grigio discreto. Fammi provare il tratteggiato. Invece... Ok, questo è quello che volevo. Ora, con tutti questi bordi, qualcosa mi sta un po' infastidendo. O meglio, qualcosa mi sta infastidendo molto. Hai visto come il testo sta addossato al bordo nel riquadro e schiacciato contro il testo nelle official info? Questo appare grossolano e rende più difficile la lettura del testo. Ed è qui che interviene il riempimento. Ogni volta che aggiungi ai tuoi elementi un colore di sfondo e un bordo, quasi sempre ritieni sia meglio aggiungere anche un riempimento per creare un po' di spazio. Quindi aggiungiamo un po' di riempimento al contenitore. Facciamo 15px tutto intorno al contenitore. Ok, molto meglio. Aggiungiamo un po' di riempimento al nostro official info. Padding 6px. Oh, bello. Ora, non abbiamo bisogno di aggiungere riempimento all'immagine, poiché l'immagine fa un bel effetto, semplicemente dentro una cornice come quella. E poi, voi avete il box model, margine, bordo e riempimento. Per spiegarti, io ho esagerato con valori e colori. Se tu vuoi che la tua pagina sia sempre levigata e sofisticata, prova ad usare più grigi e bianchi delicati. Assicurati di usare questa proprietà, perché saranno di grande effetto per la tua pagina. Grazie a tutti.